Ma ora che stai a fare? Ma che stai a fare? Ah, meglio! Ah, sei carino, sei! Ah, sei carino! Non prenderete, poiché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile e hanno indurito le orecchie e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi e per non sentire con le orecchie. Ormai non ve lo chiedo neanche più dove andate. Sento che arriveremo alla fine e io che so tante cose, questo non lo saprò mai. Ma il cammino incomincia e il viaggio è già finito. Noi! 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 Perché realizzare un'opera quando è così bella, signora Soltanto? Cosa c'è? Cosa stai leggendo? Ascolta. Porca!